...f che va da un insieme di partenza A ad un insieme di partenza B, viene definita legge o corrispondenza se ad ogni x appartenente ad A, quindi ad ogni elemento appartenente all'insieme di partenza, fa corrispondere un e un solo y appartenente a B, cioè un e un solo elemento dell'insieme B, dove con A e B si intende due insiemi coincidenti all'insieme dei numeri reali R. Quindi una funzione è appunto una corrispondenza che associa ad ogni elemento di x un e un solo elemento di y. Nel caso in cui ad un elemento di x venissero associate due y, quindi se ci fosse una figura su un piano cartesiano alla quale ad ogni elemento di x sono associati due elementi di y, allora tale figura non sarebbe una funzione. Quando si parla di funzioni è necessario definire tre oggetti, ovvero il dominio, il codominio e il grafico. Il dominio viene anche chiamato insieme di partenza o comunque insieme di definizione della funzione F o anche campo di esistenza della funzione e contiene tutti gli elementi che corrispondono ad x al fine di far acquisire un senso alla funzione. Cioè nel dominio della funzione ci sono tutti gli, è il più grande insieme nel quale può variare la x in modo tale che la f di x abbia senso. Mentre invece la f di A, che viene chiamata anche codominio della funzione o insieme delle immagini della funzione, contiene tutte e sole le immagini degli elementi di A e viene definita come il più grande insieme nel quale y appartenga a B tale che esiste almeno una x appartenente ad A e con y uguale ad f di x. Infine il grafico della funzione G di A è l'insieme delle coppie, delle coordinate x, y appartenenti al prodotto cartesiano, quindi ad R alla seconda, tale che x appartenga ad A e y uguale ad f di x, quindi è l'insieme delle coordinate x, f di x. Quindi quando si vuole rappresentare una funzione su un prodotto cartesiano, ad ogni x corrisponde una y dove con y si intende anche f di x in quanto appunto y è uguale ad f di x. Quando si riguarda le proprietà delle funzioni, la prima da nominare è la funzione bionivoca. Una funzione è definita bionivoca, quindi una funzione f che va da un insieme A ad un insieme B è definita bionivoca se ad ogni y appartenente a B corrisponde uno ed un solo elemento x appartenente ad A. Vuol dire che la funzione deve essere sia surriettiva che iniettiva. Se una funzione è surriettiva e iniettiva, allora è bionivoca. Se una funzione è bionivoca, di conseguenza sarà sia surriettiva che iniettiva. Una funzione viene definita surriettiva se ad ogni elemento dell'insieme di arrivo, quindi ad ogni y appartenente a B, corrisponde almeno un elemento dell'insieme di partenza, quindi corrisponde almeno una x appartenente ad A. Questo vuol dire che l'insieme di arrivo corrisponde all'insieme delle immagini della funzione, quindi B corrisponde ad F di A. Vuol dire che ad ogni y corrisponde necessariamente una x, altrimenti non si parla di funzione surriettiva. Questo però non toglie che ad una y corrispondano due x, perché è appunto una funzione che si dice surriettiva se ad ogni y corrisponde almeno una x, ma ne possono corrispondere anche più di una. Invece una funzione si definisce iniettiva quando ad ogni y corrisponde all'insieme di arrivo, quindi ad ogni y appartenente all'insieme B, corrisponde almeno un elemento x, corrisponde almeno una x appartenente all'insieme di partenza. Questo vuol dire che nell'insieme B ci saranno dei valori y che possono non avere nessuna corrispondenza con l'insieme di partenza, quindi con i valori x dell'insieme A. Nonostante ciò, gli y che appartengono appunto all'insieme di arrivo in una funzione iniettiva possono corrispondere ad un massimo di un solo elemento, non più di uno. Possono non corrispondere a nessun elemento, ma nel caso in cui corrispondono ad un elemento deve essere uno soltanto. Infatti per ogni x1 e x2 appartenente ad A con x1 diverso da x2, si ha che f di x1 deve essere diverso da f di x2. Se una funzione è bionivoca, vuol dire che ad ogni elemento dell'insieme di arrivo, quindi ad ogni elemento dell'insieme delle immagini di A, corrisponde uno ed un solo elemento dell'insieme di partenza, quindi del dominio della funzione. Di conseguenza, ciò vuol dire che la funzione è invertibile, ovvero esiste la funzione inversa che viene indicata con f alla meno 1 e che va da B ad A, dove x è uguale a f alla meno 1 di y. Componendo una funzione con la sua inversa, ad ogni x corrisponde la stessa x e questo è un legame funzionale, ovvero la funzione inversa si applica a x uguale a f alla meno 1 di y. Questa funzione si applica alla y, quindi si avrà f alla meno 1 di y che è uguale a f alla meno 1 di f di x e questo vuol dire tornare indietro, quindi si riottiene la x. Quando si parla di funzione inversa, essa è simmetria rispetto alla bisettrice del primo senso quadrante della funzione di partenza. Esistono anche le funzioni monotone, la cui definizione è la seguente. Prendendo una funzione f che vada da un insieme A ad un insieme B, una funzione è definita monotona se verifica una delle seguenti condizioni per ogni x1 e 2 appartenenti ad A. La prima condizione verifica una soltanto delle 4 condizioni che sto per dire, non 2 o 3 contemporaneamente, una soltanto. Quindi la prima condizione è che x1 sia inferiore a x2, di conseguenza f di x1 è inferiore ad f di x2 e la funzione viene definita strettamente monotona, più precisamente strettamente crescente. Se invece x1 fosse inferiore o uguale a x2, allora f di x1 sarebbe inferiore o uguale a f di x2, di conseguenza la funzione è crescente. Se invece x1 è maggiore di x2, allora vuol dire che f di x1 è maggiore di f di x2, quindi la funzione è strettamente monotona, più precisamente strettamente decrescente. Mentre invece se x1 è maggiore o uguale di x2, f di x1 è maggiore o uguale di f di x2, quindi la funzione è decrescente. Esiste un teorema che collega la monotonia all'iniettività, ovvero se una funzione è strettamente monotona, quindi strettamente crescente o strettamente decrescente, allora è iniettiva. Quindi come ipotesi si utilizza appunto la definizione di monotonia. Prendendo ad esempio una funzione crescente, si definisce un x1 e un x2, dove x1, cioè un x1 e un x2 che siano valori differenti, dove x1 è inferiore a x2, di conseguenza si avrà che f di x1 è inferiore a f di x2. Come tesi invece si prende la definizione di iniettività, ovvero per ogni x1 e x2 appartenente ad A, con x1 diverso da x2, allora f di x1 è diverso da f di x2. Questo teorema in realtà la dimostrazione è molto banale, perché si capisce intuitivamente, ovvero se come ipotesi io dichiaro che la funzione è strettamente monotona, quindi è strettamente crescente in questo caso, quindi f di x1 è inferiore a f di x2, ovviamente se è strettamente inferiore non può essere uguale. E quindi appunto il teorema è dimostrato. Di conseguenza se una funzione è strettamente monotona, allora è iniettiva. Non vale il contrario, cioè se una funzione è iniettiva non è detto che sia appunto strettamente monotona. Quindi avendo una funzione surriettiva e strettamente monotona, è come dire che è una funzione surriettiva e iniettiva, che corrisponde a una funzione bionivoca, e una funzione bionivoca è invertibile. Infine, ci sono altre due caratteristiche delle funzioni, che sono le funzioni dispari, le funzioni pari e le funzioni limitate. Una funzione f che va dall'insieme A ad un insieme B, per ogni x appartenente al dominio della funzione, con y uguale ad f di x, una funzione si definisce pari se f di x è uguale a f di meno x ed è, diciamo, risulta essere simmetrica rispetto all'asse y. Mentre invece una funzione viene definita dispari se f di x è uguale a meno f di meno x ed è simmetrica rispetto all'origine. Infine, una funzione f che va da un insieme A ad un insieme B risulta essere limitata se esistono due valori m ed n appartenenti all'insieme dei numeri naturali, tale che la funzione sia compresa tra m ed n. Quindi il grafico di questa funzione risulta essere compreso in una striscia verticale, dove m è una retta parallela all'asse x e n è un'altra retta parallela all'asse x. Quindi la funzione è, diciamo, limitata in una striscia orizzontale. Si può parlare anche di funzione limitata superiormente nel caso in cui la funzione sia inferiore ad un determinato valore oppure si può parlare di funzione limitata inferiormente se la funzione è maggiore di un determinato valore. Adesso descriveremo le funzioni elementari con le proprie caratteristiche. La prima, la più semplice, è la funzione costante y uguale ad ak, le cui caratteristiche sono le seguenti, ovvero k è un generico numero appartenente all'insieme dei numeri reali e l'immagine di di k, l'immagine di questa funzione è sempre k. Quindi bisogna immaginarsi in un piano cartesiano una retta parallela all'asse x.